Mentre l'apertura dell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi si avvicina, la data dell'11 luglio ormai prossima, si lavora per far trovare pronto il territorio a questo fatidico appuntamento. Presso il palazzo della provincia di Salerno sono stati firmati i protocolli di intesa tra i comuni per i servizi di trasporto che collegheranno lo scalo aeroportuale con i centri e con le stazioni limitrofe di Salerno-Ponte Cagnano-Faiano-Bellizzi-Battipaglia. Sì, fondamentale, però si va avanti velocemente, stiamo davvero utilizzando anche gli attimi per poter essere pronti per l'11 e per i giorni, settimane e mesi successivi perché credo che sarà un crescendo e il miglioramento di tutti i servizi anche dal punto di vista delle infrastrutture. Questo è un bel passo, però c'è stato un coordinamento del consigliere regionale Cascone, il consigliere provinciale Danisi, l'onorevole Piero De Luca, ci sono i cinque comuni che sottoscrivono insieme alla provincia, c'è Battipaglia, Bellizzi-Ponte Cagnano, Salerno-Battipaglia e quindi si va avanti, però io credo che ancora bisogna lavorare notte e giorno per essere pronti a questa straordinaria apertura. Una cosa importante innanzitutto ci si avvicina al momento di aprire l'aeroporto e avere un aeroporto in provincia di Salerno, Costa Damalfi, anche per noi Battipaglia che aspettiamo l'alta velocità e l'apertura verso la piana del Sele, il masterplan, è una cosa importantissima. Questo protocollo ci permette soprattutto, noi abbiamo la possibilità di portare persone all'aeroporto, però come sai stare lì, avere dei posti per ricevere e ritornare indietro, questo non era previsto, quindi grazie a questo protocollo di intesa avremo appunto tre nuove licenze, ma avremo degli stalli insieme a Salerno e ad altri paesi, la possibilità che anche i nostri tassisti possano attendere e aspettare i clienti, questo è importante. Per il momento sono tre nuove possibilità, il presidente Alfieri poi ovviamente successivamente con l'implementazione sicuramente ci saranno altri. È un accordo, tra virgolette, in emergenza, è provvisorio perché noi non siamo riusciti ancora a bandire le dieci licenze da taxi, il bando dovrebbe uscire la settimana prossima perché questo organismo ministeriale ha eccepito delle osservazioni, quindi perché sapete che è una procedura molto complessa, però stiamo cercando di rispondere all'emergenza, l'11 luglio è vicino, duemila passeggeri al giorno, quindi dobbiamo perlomeno garantire i servizi, perché io non mi stancherò mai di dire che chi viene la prima volta deve tornare anche la seconda volta, perché sennò rischiamo di fare brutta figura. È sicuramente un'opportunità, sia per quanto riguarda il lavoro, perché alla fine tutti gli enti interessati abbiamo bandito il servizio taxi, visto che non c'era sui territori questa necessità, e soprattutto daremo la possibilità agli utenti di avere un servizio che è fondamentale per una struttura del genere. Abbiamo firmato questo protocollo insieme ai colleghi sindaci, che non voglio numerare, comunque Bellizzi, Ponte Caniano, per fare in modo che allo sbarco i turisti, i passaggeri, trovino il conforto di una situazione di mobilità possibile. Naturalmente è un primo passo, perché poi lì arriverà la metropolitana leggera, con uno sbarco a 300 metri dalla stazione aeroportuale, e quindi le cose andranno avanti a passo spedito.